Le foto delle vittime appese al portone di ferro della Teresa Moda, la fabbrica che tre giorni fa si è trasformata in un cimitero e poi uno striscione con gli ideogrammi dei nomi degli operai che sono morti nel rogo. La comunità cinese ha reso omaggio alle vittime con una fiaccolata, non manca qualche momento di rabbia. Tra l'ora è arrivato da Torino anche la sorella di Wang Chunhao, la donna che il marito ha potuto riconoscere dalla collana che indossava. Da quanto tempo non sentiva sua sorella? Io già un po' di tempo, già qualche mese non ne sentivo, perché io lavoro diverso, perché Olalio è anche diverso, perché loro lavorano di notte e io lavoro di giorno, mattina presto. Ma lei sapeva che sua sorella lavorava in queste condizioni? Io non lo so prima, solo quando sentivo loro parlando con mia sorella, lavoro qua dentro, poi così ho sentito. Mia sorella ha già 4-5 anni, lavora qua. Chi è rimasto qui della famiglia di sua sorella? C'è un maletto e una figlia qua, c'è ancora due figlie in Cina. Importanti le parole del presidente dell'Associazione Italia-Cina. Quello che è accaduto cambia tutto, bisogna lavorare per avviare le imprese verso la regolarizzazione. Durante la fiaccolata la comunità cinese ha reso noti i nomi di tutte le vittime. Una sorpresa per gli inquirenti da ore impegnati nel difficile compito del riconoscimento dei corpi. Intanto l'inchiesta della procura di Prato va avanti, 4 persone, tutte cinesi sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta della titolare della Teresa Moda e di tre connazionali che di fatto la gestivano. Al momento le accuse ipotizzate sono disastro colposo, omicidio colposo, plurimo e sfruttamento di mano d'opera clandestina. L'omaggio per le vittime di Prato è continuato anche oggi. Nelle scuole e negli uffici pubblici si è osservato un minuto di silenzio simbolico. Così è stato fatto anche al Consiglio regionale della Toscana dove il presidente Monaci ha parlato di morti di schiavitù. L'Italia compirà passi ufficiali con il governo cinese per cercare di evitare il ripetersi di queste tragedie, ha annunciato il ministro dell'integrazione Cecil Kienge. Tra gli obiettivi del governo, spiega ancora la Kienge, c'è quello di rafforzare il rapporto con i paesi d'origine e dei migranti con accordi bilaterali per rendere regolare l'immigrazione e sconfiggere la criminalità organizzata. La comunità cinese di Prato previene tutta da una stessa città del sud della Cina, Vengiu, un simbolo dell'iper sviluppo industriale già almeno da due decenni. L'ex premier Romano Prodi, che l'ha visitata, l'ha definita un'isola di imprenditorialità esasperata. È molto diversa le altre città cinese, una città con regole economiche proprie, riconosciute addirittura dallo Stato come città particolare e con un'attività finanziaria informale, chiamiamola così, molto diffusa e con uno spirito commerciale che è addirittura superiore a quello già forte delle altre città cinesi.